Giornata tipicamente primaverile, quella appena trascorsa, termometro intorno ai 17 gradi e fiori sbocciati, ma il freddo è in agguato. Nei prossimi giorni faranno eruzione nel nostro paese corrente di aria gelida in discesa dal polo nord. Secondo il sito ilmeteo.it ci sarà la possibilità di forti temporali e con la possibilità anche di nevicate fino quasi in pianura. Mercoledì 17 un fronte freddo in discesa dal nord Europa farà sentire i suoi effetti, in particolare sulle temperature, con valori che risulteranno decisamente bassi, anche prossimi allo zero, poi nella successiva nottata soprattutto al nord e nelle vallate più interne del centro. Venerdì 19 si concretizzerà l'atteso colpo di coda invernale. Dando uno sguardo al quadro sinottico si può vedere come correnti molto fredde in discesa dal nord Europa riusciranno a tuffarsi nel bacino del Mediterraneo, favorendo la genesi di una zona di bassa pressione tra Mar Ligure e l'Alto Tirreno. Il neonato ciclone mediterraneo porterà una fase di maltempo di stampo invernale con il rischio più che concreto di nevicate fin quasi in pianura al nord ovest.